Paola Staccioli, ceramista fiorentina che ha ereditato dal padre la passione per la ceramica e che è ormai famosa per i suoi oggetti di improbabile uso quotidiano. Sì, perché i suoi pezzi sono teiere, tazzine, ciotole, piatti, con delle cromie speciali, luminose e per questo vorrei sapere che tecniche utilizzi. Sì, per ottenere questi colori si deve fare una speciale, particolare cottura durante la quale si fa una fumicatura. Questa fumicatura durante la seconda cottura fa venire fuori la parte metallica dei colori, più o meno, quindi spesso determina degli effetti molto belli. Qualche volta invece degli effetti disastrosi, proprio perché non è molto facile da controllare. Il rame è uno dei colori che uso di più perché cambia dal verde al rosso e se bilanciato, come cerco di fare, con anche del bianco può dare dei risultati molto belli. A volte con questi colori lustri si deve stare attenti perché si può rischiare di andare... Di appesantire troppo e di rendere un po' troppo barocche le cose. Sì, sì, per cui mi piace anche unire disegni che siano abbastanza delicati e leggeri. Quindi immagino che sia una ricerca di equilibrio tra la forma e la decorazione. Sì, questo è molto importante. Io do importanza a entrambi gli aspetti e a volte dipende anche un po' dai periodi che sto passando. Ci sono dei momenti in cui mi diverto particolarmente a fare... a sbizzarrirmi un po' sulle forme e le teiere sono state un soggetto che ho fatto tante volte perché, come dicevi, sono solo un pretesto. Spesso non sono di uso proprio perché le faccio in un modo... cioè diventano un po' troppo complicate per essere usate. Però il beccuccio, i piedini diventano le zampette, il braccio, il tappino diventa la testa. E quindi l'ho interpretata in tanti modi diversi. Quindi dai una vita a alcuni degli oggetti che crei? Ci provo, insomma. Sì, 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 sì. E questo è l'aspetto della forma. Allo stesso tempo la ceramica dà tante possibilità. È bella anche la superficie e la possibilità di poter disegnare. E con la mia tecnica poi, sfruttando proprio questi effetti metallici, a volte anche un disegno piuttosto semplice, però diventa prezioso. Tu hai iniziato non da una scuola d'arte, quindi fino a poco tempo fa non avresti creduto di diventare specializzata in ceramica. Sei molto giovane. Cosa consiglieresti a un giovane che vorrebbe, quindi già propenso, ad avvicinarsi al mondo dell'artigianato artistico in un momento di questo tipo? Allora, in questo momento è veramente difficile dare consigli. Quello che è successo a me è stato che sono stata molto incoraggiata, un po' dal mio babbo, che quando ha visto che avevo cominciato ad aiutarlo, e lui dice per poco perché poi ho cominciato a fare subito delle cose per conto mio, divertendomi molto con questa materia che non conoscevo e che dà tante possibilità, per lui magari è anche un oggetto semplice, gli sembrava molto bello, per cui diceva vai vai, continua, continua. Ricordiamo che tuo padre è Paolo Staccioli, che è già molto celebre nell'ambito dell'artigianato artistico e non solo. Ecco, quindi sei stata fortunata, tra virgolette, avvantaggiata ad avere accanto a te la possibilità di apprendere anche le tecniche base da chi già da anni le utilizzava. Dunque, lui, anche lui è un'autodidatta, cioè ha sempre dipinto per passione facendo un altro lavoro e poi ha cominciato a dipingere su ceramica, per cui è sempre stato molto libero, cioè il vantaggio, ci sono svantaggi nel non fare una scuola, ma i vantaggi sono che hai più libertà, che non sei controllato e quindi lui poi ha fatto tanta strada, adesso è diventato insomma uno scultore importante, ha fatto mostri importanti e essendo andato in pensione presto ha avuto tutto il tempo poi di fare questa, di seguire questa passione senza dover pensare al discorso economico, perché non era il suo lavoro. Per quanto mi riguarda, io per un po' di anni, per un po' di tempo, ho percorso due strade, perché avevo fatto altri studi, e poi ho deciso di concentrarmi su una. Ho visto che ho trovato anche un'altra persona importante, che è Anna Forconi, la proprietaria della bottega dei Cristalli, a cui feci vedere una delle mie prime tazzine, che si entusiasmò, che mi disse, ma certo, queste si vendono, c'è speranza nel senso, poi anche forse possiamo provare insieme a... e nel 2001-2002 era un po' più facile. Comunque hai trovato chi ha creduto in te all'inizio, quando ancora magari si è un po' indecisi sul da farsi, no? Sì, lasciandomi, anche lei però, molta libertà, cioè chiedendomi di portarle quello che a me piaceva di più. Era molto bello, perché magari facevo... all'inizio poi c'è sempre veramente tanto entusiasmo, tutte le volte facevo una cosa nuova, prendevo, magari il motorino andavo a fargliela vedere, e lei subito la metteva in vetrina, insomma, quindi quell'aspetto conta molto, insomma, lo stimolo, poi devi anche però valutare gli aspetti pratici, quindi io penso sia anche importante fare sempre piccoli passi, considerando quello che è il contesto, quello che sono le possibilità. Certo, ma nel tuo caso ha influito la scelta, deduco, di una tecnica così particolare come la tua? Sì, sì. Che comunque ti ha caratterizzato. Sì, sì, in effetti posso dire che bisogna cercare di trovare un filone, qualcosa che contraddistingua un po', perché sì, perché il momento non è facilissimo, quindi è difficile essere notati. Ci sono tante belle cose in giro, però credo che l'importante è essere sempre volenterosi e metterci passione. Assolutamente. Grazie a Paola Staccioli. Grazie a voi. Grazie a voi.